Amici proseguiamo il nostro girettino e adesso siamo qui in questo piccolo leometto qui non lo so che cos'è sembra un pony un pony ciao ciao andiamo a vedere cosa c'è più avanti qua c'è qualche cavallo buongiorno ciao cavallino ciao cavallino oh tu sei già un bel cavallo non un cavallino sei già un bel cavallo qui c'è un altro cavallo un cavallo con un cavallino ciao ciao Qui ci sono altri due cavalli da ammirare Ciao bei cavalli Amici proseguiamo la nostra camminatina qui nel territorio di Lamont in mezzo alla campagna però ci sono tutte le montagne che circondano è un bellissimo panorama qui alla Mon amici camminare fa bene Ciao Qui abbiamo trovato un piccolo sentierino che non so dove ci possa portare. Vediamo, noi camminiamo, ciao, bel cavallino. E' così. Beh ma ancora una bella gamba eh? Ah si, ma io sono sempre in movimento, non mi fermo mai. Bisogna essere sempre in movimento per mantenersi anche a 90 anni? Eh si. Bisogna sempre camminare, poi anche qui in montagna cercare di camminare sul piano porta sempre dei benefici e consiglia un po' anche con l'età, con tutto. E' così il circolo del sangue. Il circolo del sangue, viene appetito e mettiamo in circolazione un po' tutte le arterie. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Amici abbiamo fatto una bella camminatina a piedi questa mattina qui nel territorio di Lamont abbiamo visto tanti piccoli allevamenti di cavalli, capre, asini e via discorrendo. Il nostro video termina qui. Amici, trovarvi è sempre un grandissimo piacere e con il clima leggero che c'è qui, che si respira qui alla Mall. Io vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao, 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 ciao. 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 Ciao.